Torino 0 Napoli 5 ragazzi miei il Napoli con una vittoria incredibile scavalca noi la Roma al secondo posto in classifica adesso siamo due punti sotto ma il problema più grave è che noi stasera ospitiamo la Juventus all'Olimpico e qualora dovesse pareggiare o vince vincerebbe lo scudetto in casa nostra una situazione veramente brutta vi posso dire quello che penso io? me sto a cagare sotto ma non solo per la partita di stasera ma più che altro perché è una settimana che non vado al bagno e sto costipato in una maniera che voi non potete nemmeno immaginare quindi lo sapete che vi dico? che io vado al bagno cerco di liberarmi perché stasera potrebbe essere una situazione veramente de merda c'ho una paura che voi non potete capire ciao ci vediamo dopo e speriamo bene per stasera mamma mia perché se no voi non potete immaginare neanche quello che io posso fare oddio